50 giorni dopo l'alluvione a che punto sono? i lavori nelle decine di cantieri aperti per cui sono stati già decisi stanziamenti per milioni e milioni di euro facciamo un giro con l'operatore di Telegranducato Angelo Serantoni insieme al presidente della regione commissario per l'alluvione Enrico Rossi e partiamo subito dalla zona più a sud tra quelle colpite al confine tra i comuni di Livorno e Rosignano prima tappa sul greto del chioma evidenti ancora i danni ma evidenti già i lavori fatti quali sono stati compiuti e quali sono in programma? qui le sue emergenze le ha fatte il consorzio idraulico sono stati già fatti 7 interventi di consolidamento degli argini per un totale di 500 mila euro e ne faremo altri sempre di consolidamento per altri 500 mila euro quindi nel complesso sul corso del rio chioma spenderemo circa un milione per metterlo in sicurezza? il concetto di sicurezza in assoluto non esiste più certo rispetto a come era prima è evidente che il livello di sicurezza è molto più elevato e questo mi sembra positivo perché ha spinto anche come si può vedere alcuni resort subito a rimettersi in moto a ripulire e a riprendere le attività ecco i lavori sono stati compiuti dal consorzio di bonifica servono i consorzio di bonifica? sì perché noi abbiamo fatto una grande riforma vera però è una riforma dell'organizzazione di tutti gli istituti che si occupano dell'assetto idrogeologico c'è un riferimento e una responsabilità regionale nel dipartimento abbiamo riorganizzato i geni civili che adesso dipendono tutti dalla regione toscana e quindi c'è un principio gerarchico e poi i 22 consorsi idraulici ne abbiamo fatti 6 e abbiamo stesso il contributo di bonifica a tutti quelli che dovevano pagarli questo ci consente di avere un intervento sull'assetto idrogeologico della Toscana di 100 milioni all'anno per quanto riguarda gli investimenti parlo di spesa, spese anche qui in consolidamenti arginali spese in casse di esondazione, in canali e poi di avere anche 100 milioni che possiamo spendere attraverso i consorsi accudiamo anche un contributo regionale per fare davvero la manutenzione di tutti i corsi d'acqua della Toscana compreso i grandi corsi d'acqua questa organizzazione è quella che ci ha consentito anche di intervenire in modo così tempestivo, in modo così efficace anche in questa situazione di emergenza Ci spostiamo verso la foce Qui c'era il ponte C'era un ponte che la forza del rio passando l'acqua sotto la galleria delle ferrovie ha portato via in un colpo solo Sembra impossibile Sì, fa anche un po' paura, anzi deve far paura Il ponte verrà ricostruito i comuni hanno cominciato i consolidamenti arginali in sua omorgenza e poi il comune di Rosignano che ringrazio Perché di là è Rosignano di qua a Livorno Di là è Rosignano di qua a Livorno ma il progetto lo fa il comune di Rosignano hanno presentato i tecnici un bel progetto insieme al sindaco e vi ringrazio per questo lavoro I lavori partiranno ormai entro l'anno diciamo, prendendoci anche un po' di tempo per una spesa complessiva di circa un milione Il lavoro prevede che si faccia un ponte rialzato in modo che dovessero esserci le stesse condizioni così violente come ci sono state 50 giorni fa invece si alzi il ponte e quindi l'acqua continua a passare sotto e poi, questa è la soluzione che io giudico geniale dei tecnici del comune di Rosignano si prevede due torrette con la possibilità per i pedoni di salire sul ponte anche quando l'acqua sotto fosse più alta Quindi quando l'acqua si alza è pericoloso si alza il ponte e l'acqua passa sotto ma i pedoni possono ugualmente usufruire del ponte I lavori partiranno entro l'anno per una spesa complessiva di circa un milione quindi sul chioma riusciremo entro i 18 mesi a spendere qualcosa come 2 milioni e mezzo non sarà la sicurezza totale ma è una chioma nuova E collegare anche in questo punto Livorno e Rosignano E collegare anche qui Livorno e Rosignano e poi soprattutto anche allo stabilimento balneare e a tutte le attrezzature turistiche qui di funzionare a piano regime Siamo scesi verso il porticciolo Sì, anche qui c'è stata un'esondazione del rio di Quercianella e ci sono stati interventi fatti in questo caso ancora dal consorzio idraulico per una spesa complessiva di 200 mila euro anche questi di consolidamento e allargamento della portata del fiume Proseguiranno con altri interventi che faremo nel corso di quest'anno per un valore complessivo di altri 400 mila euro sempre di consolidamento, allargamento e rifacimento delle sponde di rio Quercianella Anche in questo caso la sicurezza aumenterà notevolmente È una corsa contro il tempo, verrebbe anche da dire La verità è che purtroppo i meteorologi, i climatologi ci dicono che questi eventi non sono più eccezionali sono eccezionali rispetto a 20 anni fa non lo sono più oggi e questi eventi possono ripetersi tra 7 mesi come tra 15 giorni Noi non possiamo dire che abbiamo messo in sicurezza certo che alziamo il livello di sicurezza, questo sì e quindi la disgrazia che è accaduta non è solo da parte nostra l'occasione di un ripristino per tornare alle condizioni precedenti ma vuole essere un intervento anche di carattere strutturale per migliorare la sicurezza del territorio livornese Le risorse già stanziate dalla Regione derivano da norme speciali e urgenti approvate dal Consiglio regionale con voto unanime già nel mese di settembre Si trattava in particolare di tre leggi che erano state preparate e presentate dalla Giunta di Rossi C'è anche il consigliere regionale Francesco Cazzetti il Consiglio regionale lo sappiamo, lo sanno i nostri telespettatori ha recepito subito l'urgenza di questo tipo di interventi insomma ha approvato provvedimenti significativi Assolutamente sì, lo possiamo dire Livorno non è stata lasciata sola non sono stati lasciati da soli i livornesi e nemmeno i cittadini e gli abitanti di Colle Salvetti e di Rosignano sin da subito tutto il Consiglio regionale in maniera assolutamente strana In maggioranza e opposizione Trasversale, unanime, non c'è stata nessun tipo di divisione si è subito attivato per far sì che venissero emanati atti concreti e che tra l'altro supportassero anche l'attività del commissario Rossi che si è mosso con tutte le strutture della Giunta ma anche degli uffici, anche del Genio Civile in maniera assolutamente efficace e tempestiva quindi atti molto concreti per dare risposte risposte a una cittadinanza soprattutto a delle comunità che erano state duramente colpite Tra un attimo ci sposteremo con il nostro operatore Angelo Serrantoni nelle zone più colpite di Livorno dove ci sono i segni del disastro ma anche i segni della ricostruzione Lei li ha visti tantissime volte questi luoghi in questi giorni? Sì, devo dire che ancora ripensando alle primissime ore subentra questo sentimento veramente di sconforto, di sconcerto cioè un dolore che ci porteremo dentro per sempre per le persone che purtroppo hanno perso la vita ma anche luoghi che abbiamo visto assolutamente stravolti da questa alluvione I provvedimenti che sono stati varati dal Consiglio regionale sono provvedimenti che sono andati nella direzione di dare strumenti operativi 28 milioni sono stati messi a disposizione 20 per le opere 8 per dare una prima risposta soprattutto anche alle situazioni di maggiore fragilità anche nei confronti dei più deboli e questa è stata, secondo me, un'interpretazione molto giusta concreta, fattiva, in linea lo ripeto, con l'operato del commissario Devo dire che tutta questa grande capacità di intervento è il modo migliore per essere all'altezza delle necessità della cittadinanza ma un pensiero, permettimi di rivolgerlo alle ragazze e ai ragazzi alle bimbe e ai bimbi della mota vederli operare in quella maniera con quello slancio con quella voglia di fare le cose si sono veramente messi a disposizione di una comunità ci ha spinto tutti quanti a essere alla loro altezza e quindi abbiamo lasciato da perdere le polemiche le divisioni abbiamo detto che dobbiamo essere all'altezza di quelle ragazze e di quei ragazzi spostiamoci nei luoghi dove oltre ai danni materiali ingenti ci sono state anche perdite di vita umana e dove anche noi con la nostra telecamera incontrando pure alcuni contadini del posto scopriamo un reticolo davvero grande di corsi d'acqua questo è il botrone della Giorgia magari neppure tutti i livornesi lo conoscono è un subaffluente del rio Ardenza nel senso che confluisce sul forcone che a sua volta va a finire nel rio Ardenza è stato intervenendo anche in questi corsi minori è chiaro che l'acqua va dove il terreno pende e gli affluenti apportano poi a Riva Ardenza che è esondato a Stillo e poi anche alla Foce apportano acqua e quindi provocano danni noi qui abbiamo speso 250 mila euro continueremo a fare lavori di questo tipo ancora di consolidamento originale il botone della Giorgia finisce nel rio Forcone anche sul rio Forcone stiamo intervenendo soprattutto il rio Forcone si immette sul rio Ardenza in modo perpendicolare e invece Genio Civile ha proposto di fare un afflusso meno violento ricaveremo poi anche il rio Forcone verso la Foce riapriremo le luci dei tre ponti alcune erano non perfettamente funzionanti allargheremo anche qui la luce dello stesso rio Ardenza in modo che possa contenere e portare più acqua complessivamente sul rio Ardenza noi spenderemo da 7 a 10 milioni Siamo in via di Collinet i nostri telespettatori di quella domenica mattina certamente ricorderanno uno dei primi luoghi dove si è avvertito il peso di questa tragedia qui qualche lavoro, Presidente, c'è ancora da fare? No, c'è soprattutto da collaudare il lavoro è stato fatto bene anche come si può vedere al Comune di Livorno era l'ente attuatore noi abbiamo dato i finanziamenti e poi in rio Ardenza gli interventi stanno in quei 2 milioni e mezzo di opere che già abbiamo fatto manca il collaudo quindi siamo stati sollecitati anche dai cittadini ma credo che già a partire dalla prossima settimana questa fatica che abbiamo dovuto che hanno dovuto fare i cittadini si deve fare più il giro che hanno chiesto che abbiamo chiesto i cittadini di fare non si dovrà più fare insomma è importante anche averlo recuperato come si vede mi pare proprio un buon lavoro anche se c'è stato qualche disagio qualche ritardo come spesso accade si è fatto prima a fare quelli nuovi che non a ripristinare quelli più vecchi che andavano consolidati rimessi a posto ci spostiamo di qualche metro più a monte il fosso del mulino e il rio Ardenza si intrecciano diciamo così più o meno in questo punto qui ci sono interventi significativi che state già facendo beh tanto come vede abbiamo rifatto il consolidamento arginale ripulito tutto questo è stato uno dei punti della disgrazia maggiori insomma dove l'acqua ha colpito più pesantemente e poi progettiamo per mettere in sicurezza dopo i consolidamenti la ripulitura che stiamo facendo anche di tutti gli affluenti fra cui il fosso e il mulino sul rio Ardenza progettiamo di fare una serie di invasi con aree di laminazione dove l'acqua va quando il fiume raggiunge un certo livello e ovviamente tutelando le casse in modo da tutelare meglio l'abitato da ridurre il rischio per le persone che abitano in queste zone banalmente una valvola di sfogo per l'acqua perfetto una valvola di sfogo per l'acqua quando l'acqua del rio Ardenza raggiunge un certo livello qui sono interventi molto costosi sì appunto complessivamente sul rio Ardenza abbiamo già spesso 2 milioni e mezzo e noi progettiamo di spendere 7 milioni e mezzo 10 milioni metteremo ulteriori risorse naturalmente bisogna dire che gli interventi fatti in somma urgenza sono quelli fatti subito dove si può chiamare un'impresa fare un progetto velocissimo e metterci al lavoro adesso entriamo in una fase diversa che sono gli interventi che faremo con rapidità anche questi il mio obiettivo è che tutti i lavori possano partire quindi se riusciremo a raggiungere questo obiettivo sarà importantissimo perché non ci sia pensato prima è una domanda che in molti si faranno ma innanzitutto lo so che questa parola mi viene subito contestata però l'evento che si è realizzato qui a Livorno come sostengono anche i più anziani è veramente un intervento rispetto a prima straordinario può ripetersi come dicevo anche tra 7 mesi tra 15 giorni bisogna tutti essere consapevoli della necessità di una maggiore tenuta di tutto noi abbiamo fatto molte cose ad esempio abbiamo stabilito che non si può più costruire nell'alvio dei fiumi in base alla nuova legge regionale queste abitazioni non ci sono quindi le normative esistenti a livello regionale possono funzionare anche nel nuovo contesto sono cambiato molto le normative e bisogna rispettarle adesso da parte di tutti quelle che ci sono ora diciamo potrebbero andare bene quelle che ci sono ora impediscono appunto di realizzare abitazioni nelle casse naturali di esondazione dei fiumi nelle aree a rischio i nuovi piani urbanistici verranno fatti tenendo conto di questi vincoli in più abbiamo fatto una legge la cosiddetta la legge 65 la legge urbanistica che impedisce nuove lottizzazioni e nuove edificazioni perché insomma di casa ne abbiamo già murate molto poi tenga presente come le dicevo che la riforma che abbiamo fatto del consorzio e del genio civile è una riforma recente a pieno regime i consorzi sono entrati nel 2017 quindi anche gli aspetti di manutenzione si dovranno consolidare nel corso del tempo più su ancora sul rivardenza naturalmente beh l'argine qui è stata rifatta sì anche più più a valle è stato rifatto l'argine per pezzi importanti come giustamente la signora chiedeva noi continueremo a lavorare se lei prosegue vedrà altri cantieri che sono stati aperti quindi non finisce per 23 cantieri nell'arco di 50 giorni di cui il ponte che vedremo è uno noi abbiamo spesso in totale 2 milioni e mezzo pensiamo di spendere 7 milioni e mezzo forse anche 10 milioni e di mettere quanto più possibile in sicurezza tutta questa situazione e quindi ne vedranno ancora di cantieri ecco quindi i cittadini che ancora non hanno visto vicino a sé i lavori insomma potranno vedere che nei prossimi tempi nel proseguo ci saranno aperti in tutta questa zona altri cantieri naturalmente metteremo anche chiedendolo al Consiglio regionale ulteriori risorse rispetto a quegli interventi in fascia C che insomma dopo un po' quindi la partita delle risorse anche regionali si riapre si riapre necessariamente anche la partita di risorse regionali noi pensiamo rispetto al preventivato in fascia A i primi interventi insomma e queste somme urgenze che lei vede di poter risparmiare sui 32 milioni crediamo che insomma quando arriveremo a fare i conti qualcosa di importante possa restare da spendere per altri interventi in fascia C questo non sarà sufficiente recupereremo quindi altre risorse residue ed altri interventi che abbiamo in corso penso che neppure queste basteranno e quindi aggiungeremo in fondo all'anno io chiederò al Consiglio regionale la possibilità di aggiungere altre risorse per completare tutta quanta l'opera e ancora più su vediamo che ci sono molti interventi di ripulitura sì noi stiamo facendo un intervento totale di risistemazione del rivardenza allargandone la portata laddove è possibile ripulendo disboscando come vedete ripulendo anche le griglie di contenimento molte sono state pulite già altre verranno ripulite e poi in qualche caso anche ricostruendo gli argini anche con queste geostoie come le chiamano queste sotto di noi e come dicevo i lavori continueranno su tutto il fiume e completeremo in ogni angolo tutti gli interventi da fare certo è impressionante vedere i danni che ha prodotto quell'evento insomma sì anche a distanza di 50 giorni sì vedete cos'è il rio Ardenza in questo momento pensate che forza distruttiva deve aver avuto questo è stato ricostruito perché arrivava fin lì qui c'è stato un riporto enorme di terra palificazioni sono state fatte palificazioni per il contenimento del terreno altrimenti il fiume aveva mangiato fino alla strada qualche problema da risolvere però c'è ancora ce ne saranno anche altri uno dei problemi poi non so se questo è il caso specifico la responsabilità è del genio civile di Livorno l'alveo dei fiumi va tenuto pulito pulito vuol dire che non ci si può costruire baracche o altro ancora e queste dovranno essere rimosse con delle o con accordi verbali e noi li preferiamo oppure anche con ordinanze specifiche perché c'è una specifica responsabilità del genio civile e io chiederò al genio civile di Livorno di essere su questi aspetti massimamente rigorosi anche queste costruzioni questo utilizzo ostruisce il deflusso delle acque poi 1-1-1-1 fanno un certo numero di casi e il torrente il rio diventa un'altra cosa rispetto al soccorso naturale scendiamo torniamo accanto all'Aurelia tra Ardenza e Antignano in effetti notiamo molte ruspe e tante situazioni risolte ma sono in programma anche interventi che in qualche modo cambieranno la fisionomia di questo reticolo e questo praticamente è il punto dove il forcone avrà la nuova confluenza con il rio Ardenza sì per evitare che si immetta il forcone nel rio Ardenza in maniera perpendicolare provocando di fatto con questa emissione violenta problemi di carattere idraulico piuttosto pesanti come si sono avuti oltretutto bisogna aggiungere che i tecnici di Eugenio Civile hanno fatto un buono studio perché il passaggio sotto la ferrovia il passaggio anche sotto la strada avverrà senza provocare nessuna interruzione ecco ci sarà un sistema tecnico che si chiama Spingi Tubo che consentirà di mettere un passaggio senza bisogno di fare nessuna interruzione lì c'è Ardenza facciamo vedere lì c'è il quartiere di Ardenza questo quartiere è stato molto danneggiato e quest'opera dovrà accrescere la sicurezza ripeto non si deve mai parlare di sicurezza in termini assoluti ma si può facilmente intuire che un conto è far rimettere un rio perpendicolare su un altro rio e quindi interrompere il regolare deflusso delle acque provocare forti tensioni è un conto invece accompagnarlo regolarmente diciamo più dolcemente verso la corrente dell'acqua ripuliremo verso la foce in riva Ardenza è vero ci sarà da esportare tanto materiale dalla foce e poi come dicevo verranno ripulite e resti perfettamente efficienti anche le due luci del ponte cosiddetto tre ponti perché ne aveva tre poi ne sono state fatte cinque le ultime due però sono rimaste occluse e questo ha impedito quindi maggiore ripulitura poi ripulitura anche alla foce e poi ripulitura delle due luci interventi naturalmente anche per il Banditella e più su a Montenero sì noi abbiamo rifatto al Banditella la foce mi sembra si è venuto un ottimo lavoro anche con un intervento rapido di allargamento anche della foce e poi il genio civile della regione è d'accordo con le famiglie per fare un intervento di stombamento perché proprio vicino alla foce il Banditella è stato costretto tra le case in modo che può essere pericoloso se dovessero ripetersi eventi di questo tipo e a Montenero dove i danni sono stati enormi? E lì a Montenero sono in corso i lavori per un milione purtroppo stanno andando un po' a rilento solleciteremo dello stombamento di nuovo del rio che passa nel mezzo alla piazza lì noi siamo dell'opinione che bisogna ridare l'ampiezza giusta a questo rio stombare in modo che se si dovesse creare una situazione di pericolo si possano alzare i tombamenti e rendere il rio normalmente esondabile i lavori sono in corso i tecnici stanno lavorando bisogna dare un'accelerazione e poi abbiamo speso anche altri 800 mila euro per quanto riguarda tutti gli interventi di ripulitura dei fossi che affluiscono al fosso centrale di Montenero lì i lavori sono in corso con palificazioni importanti continueremo anche su questa zona ad intervenire in questo caso ci si avvale molto anche dell'intervento dell'amministrazione comunale e veniamo a Rio Maggiore che qui ha il tombamento su cui tanto si è discusso dopo la proposta tecnica di fare un Rio Maggiore bis uno scolmatore nel Rio Maggiore insomma a cielo aperto ma diciamo intanto qual è il problema perché il problema su cui si devono in qualche modo adoperare tutti i tecnici per trovare la soluzione migliore il problema è che qui si tratta di un pezzo importante tombato da qui fino al mare che passa vicino sotto le casse praticamente non si può fare uno stombamento e non si può nemmeno pensare di allargare il Rio questo Rio peraltro ha dato fuori ha esondato causa un ponte perché quel ponte ha ostruito il passaggio delle atti i tecnici stanno valutando se è giusto quel ponte mantenerlo oppure se invece è bene dare al corso dell'acqua il suo normale deflusso e tuttavia anche valutare se si possono fare interventi a monte e quindi approfondire ad esempio le attuali casse di esondazione che sono state create dalle precedenti amministrazioni comunali per una previsione di ritorno duecentennale e poi se è possibile anche realizzare ulteriori casse di esondazione noi non abbiamo nessuna preclusione a fare interventi a monte dico soltanto che a detta di nuovo dei tecnici ed è bene che i livornesi siano consapevoli i torrenti ritombati come questi se l'acqua entra con violenza come avete visto prima con il chioma solleva addirittura ponti come abbiamo visto e davvero possono crearsi non bombe d'acqua dal cielo ma bombe d'acqua che esplodono sotto le casse addirittura e questo noi non possiamo permettercelo credo che bisogna mettere in sicurezza questa zona ecco perché abbiamo preso in considerazione anche l'ipotesi di una deviazione se tutti gli interventi a monte non basteranno perché qui ci sta una parte importante della cittadinanza di Livorno ci sono già morte delle persone quindi io vorrei chiudere il mio commissariamento con la certezza che di fronte ad un evento come quello meteorologico come quello che si è verificato abbiamo fatto in coscienza tutto il potere però nulla ancora di definito si sta lavorando si sta studiando si sta lavorando sull'ipotesi annunciata i tecnici insieme anche all'università di Firenze discuteremo ovviamente con il comune noi non vogliamo fare per niente di testa nostra se sarà necessario però la deviazione la faremo e la faremo rispettando la funzionalità di tutti gli impianti sportivi podromo compreso non vogliamo compromettere nulla vogliamo solo uscire da questa vicenda con la certezza che anche chi abita in questa zona ha un grado di sicurezza molto più elevato rispetto al passato da Rosignano a Livorno e da qui a Colle Salvetti l'ultima tappa del nostro viaggio insieme al commissario per l'emergenza e al responsabile del settore difesa del suolo e protezione civile della regione che ci fornisce puntualmente le indicazioni del caso è proprio in alcuni dei luoghi dove i danni materiali sono stati più grandi e questo è il fosso cateratto siamo naturalmente come abbiamo detto nel comune di Colle Salvetti e qui ci sono novità in arrivo insomma questo è un problema che si ripete abbastanza spesso il sindaco ci ha spiegato che questo fosso basta un po' d'acqua superiore a livelli normali esonda e coinvolge le famiglie fa rigurgitare le fognature bianche nella settimana prossima partiranno i lavori di sommo urgenza perché siamo decisi a fare una ricavatura profonda e a sistemare la situazione poi interveniamo anche sull'usione e lì l'intervento è ancora più consistente lì l'intervento prevede la costruzione di quattro casse di esondazione noi complessivamente su questa zona pensiamo che alla fine anche con i nuovi finanziamenti che metteremo avremo una spesa di circa 12 milioni e alzeremo il livello di sicurezza il comune anche ente di cui il commissario si avvale per la sistemazione di alcuni interventi che faremo nella zona industriale di Colle Salve dove i danni sono stati molto grandi c'è stato qualche danno piuttosto importante stiamo cercando faremo presto con il sindaco anche una riunione di capire anche se si possono adottare provvedimenti di resilienza insomma di adattamento per evitare che magari se ci fossero altri episodi i danni fossero ugualmente gravi però bisogna anche lì risistemare le pompe rimettere a posto un laghetto e approfondirlo per migliorare complessivamente la situazione questa zona è quella che ha avuto anche gli allagamenti e danni maggiori per tutta la parte industriale io francamente poi mi scivoluto un po' per capire se apparteneva a Livorno a Colle e Salvetti certo è una zona su cui bisogna intervenire a prescindere di dove sia il confine del comune a 50 giorni da quel disastro come abbiamo visto molte cose sono cambiate tante altre cambieranno e noi continueremo a seguire tutto Presidente alla fine anche questo suo sopralluogo che noi abbiamo seguito beh le ha servite ne ha fatti tanti in questo periodo continuerò più o meno a farne uno ogni settimana uno ogni 15 giorni vedendo proprio i cantieri sì serve per capire se i tecnici stanno lavorando per capire se le ditte fanno bene il loro dovere è un ruolo che deve avere chi ha un compito conferito dallo Stato come quello che io ho avuto di commissario del governo sugli interventi che stiamo facendo poi sì naturalmente serve anche a capire serve a capire le situazioni a prendere a parlare con la gente l'abbiamo vista anche nelle nostre immagini serve a parlare con la gente che ti sollecita che ti chiede le cose quindi insomma come posso dire mi dovranno sopportare per un annetto facciamo la sintesi proprio estrema finale interventi milioni messi a disposizione noi siamo riusciti nell'arco di sei settimane a fare la ricognizione dei danni a privati famiglie impresse e a mandare tutto a Roma in modo che si possa discutere lo Stato determinarsi il Parlamento e il Governo per dare i contributi di risarcimento nel più breve tempo possibile abbiamo aperto qualcosa come 150 cantieri nell'arco di sei settimane per una spesa complessiva di 32 milioni stiamo progettando su qualcosa di circa altri 20 milioni per chiudere il cerchio abbiamo già predisposto gli atti che ci consentiranno di fare in settimana prossima con l'assessore greco il bando per venire incontro alle famiglie alle fasce più deboli sotto 36 mila euro con un primo aiuto per la ripresa insomma mi pare che c'è da fare ancora molto aspettando nuove risorse anche da Roma sì le risorse da Roma noi gradiremo che andranno prevalentemente noi chiederemo con forza che vadano prevalentemente ai privati ecco questo è quello che il Parlamento in questo momento può fare il Ministro Galletti aveva detto che poi avrebbe messo un paio di milioni in più quando venne per gli interventi dogeologici noi li abbiamo conteggiati qualche altra risorsa per gli interventi come i cittadini ci chiedono appunto come ha visto anche lei può essere recuperata da risparmi che possiamo fare sugli interventi già in corso su altri interventi e come dicevo bisognerà rifare un passaggio in Consiglio regionale grazie a tutti